Se vedi qui c'è scritto Funnel Marketer. Funnel Marketer è la comunità di noi che facciamo funnel marketing per vendere meglio i nostri prodotti e servizi per acquisire più clienti e quindi comunicare in modo più efficace ed è composta da tre fasi. La prima fase è composta da il cosa, il come e il mercato. Il cosa è il tuo prodotto servizio, il come è come promuovere il tuo prodotto servizio in modo efficace e l'ho spiegato in questo libro qui che si chiama Funnel Marketing Formula che è uno dei libri più presenti, non venduti perché in realtà ne abbiamo regalati migliaia, veramente migliaia però anche tra i più venduti a livello di marketing. Funnel Marketing Formula, qui spiegavo quello che è il come vendere i tuoi prodotti e servizi. Qual è la risposta che hai attraverso il mercato? Quando tu lanci un funnel hai finalmente dei dati, hai finalmente risposte e puoi ottimizzare, capire dove andare intervenire nel tuo funnel, nel tuo sistema per migliorare i vari processi. Ma questa è solo la prima fase. Nel momento in cui tu impari come vendere i tuoi prodotti e servizi, a quel punto scatta la fase numero due di noi Funnel Marketer che è quella di far crescere l'azienda, far crescere il business, aumentare il ROI, aumentare i profitti, aumentare il fatturato. E come si fa? Utilizzando le tre leve di Jay Abram che è aumentare il numero di clienti, aumentare il numero di vendite ripetute sullo stesso cliente di vari prodotti e servizi ed aumentare il valore dello stesso prodotto. Se magari prima lo vendevi a 100 o lo vendi a 120, stesso prodotto, stessi costi fissi e variabili, hai un 20% in più dei profitti. Perché? Perché hai comunicato meglio, perché hai fatto percepire meglio il tuo brand, il tuo posizionamento, il valore di ciò che puoi offrire. Ma questa è la seconda fase in cui le aziende crescono. Ma c'è una terza fase in cui siamo già in fase di sviluppo con tanti i nostri clienti, partner, che è la fase del traffic domination, abbiamo chiamato. Cioè dominazione del traffico, dove tu vedrai quella tipologia di annunci, quella tipologia di personaggi dappertutto. Perché iniziano a dominare il traffico con Facebook, con Instagram, con YouTube, con LinkedIn, con i podcast. Perché? Perché il telefonino sostituisce la televisione. Quello che prima vedevi su dai uno, dai due, dai tre, come magari della funzione della barilla, ora puoi vedere la stessa tipologia su diversi canali che sono i vari social. E quando anche sai mai masterizzare questa tipologia di traffico, allora porti gran traffico sulla tua macchina, che non fa altro che crescere sempre di più e far decollare sempre di più la tua azienda. Quindi noi Funnel Marketer seguiamo tre fasi. Imparare come vendere, far crescere un'azienda e gestire il traffico. Funnel Marketer e vai a scoprire tutte le nostre informazioni. Funnel Marketer